Signore e signori, lega parla con la serie a femminile Samsung, vi danno benvenuto alla terza giornata della Samsung di Arboleta, per gli auguro buon inventimento, questa sera in campo, Igor Gorgonzola, Novara, 2.18 e su a me, è il libero di Bergamofera questa giornata di Bergamo. Il libero di Bergamofera, 24esimo punto, l'edimatto è 17. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.